eccoci salve a tutti allora ho giocato un pochino per conto mio e vabbè piace la roba da aprire comunque uso sempre la lancia e l'arco come secondario che sono questi qui e tutto bene o male abbastanza standard ora devo rifarmi un po' l'inventario perché sto per livellare personaggio è questo qui incentrato sulla destrezza un pochino sulla forza e uso questa abilità qui lancia arco sto andando a forgiare il bastone di azot e farò un po di burocrazia in città e niente piano piano dai portiamo avanti sono ancora bassissimo il livello però non ho tantissimo tempo peggio farci chiaramente gioco sempre di notte ho portato avanti un pochino la pesca sono pieno si devo passare un po di roba c'è anche da aprire delle casse una volta forgiato il bastone devo tornare in città a prima luce perché ho tutta la merce lì a come reputazione sono messo così chiaramente ho sviluppato di più prima luce perché il deposito lì con tutti gli oggetti a bello lo forgio lì mi sa il bastone interessanti sono nei pvp mod quindi non incontro nessuno che mi secca perché ho camminato abbastanza per arrivare qui mi sembra che il tempo si sia fermato difficoltà a livello 24 io 22 va bene su però devo star leggermente attento anche questa abilità qui del veleno sto valutando se te la no non mi dispiace perché comunque avvelena è che non fa tantissimi danni devo stare attento non voglio sprecare nemmeno troppe porzioni ma si sono tutti i livelli alti no eh si deve entra qui mi sa nel portale recupero il diadamo a pietra stellare all'interno di neve stellare per completare le spedizioni si avrà almeno tre giocatori vabbè giustamente no non è qui che devo andare a pietra ah è una pietra di dungeon ma scusa ah che ho avanti il bastone per forgiarli lì sopra allora tra poco faccio maestria sia con l'arco che con la lancia questo è ottimo dai a dove si entra vedi però non è meno 5 tutto oh finalmente punto maestria con l'arco che gli posso da questo mi interessa portarlo avanti mette la cittata provo questo per farlo per quello dopo perché ancora la riassignazione è libera è l'ultimo livello mi sa è l'ultimo livello che posso fare il di spec scuote i mondi ah l'anno corretta stavolta perché mi si buggava anche qui gli manca poco ma il fucile è arrivato al set attenzione è quello che è tutto in mod calma via via ok calmi eh qui ci si può pescare in quest'acqua qui questa è l'acqua dolce vediamo un po' cazzo di pesce vengono fuori nulla mi sa cazzo di pesce è un pesce strano pesce è un pesce siamo quasi riprovo dai certo sono arrivato a livello molto alto per il grado di missione a questa è l'ora della quest principale dai guarda di che è nella pesca dai adesso sforgiamo il bastone dai bene 79 e quant'ho togliato mi missione fatta alza il pescatore devo tornare da quel tizio lì un attenzione cazzo e due, complimenti eh le scale sono delle terre ottimo, livello 23 eh ora c'è da fare un po' di burocrazia ma com'è ancora vivo, dai dai scusate che ero fuori, eh cazzo vogliamo contare i coglioni, vediamo buoni, buoni ok devo tornare qui praticamente posso usare il viaggio veloce perché dove essere una città toccando a prima l'insediamento che avvicino e teletrasportarlo giù ho completato la missione dai allontanuccio due mogli animo questi sono utilissimi per l'alchimia per queste cose lì però altro manco un pochino ora sono sempre basso di livelli però voglio portare avanti anche quella cosa lì eh questa missione qui del bastone fa camminare un po' eh praticamente però c'ho già una lancia per il livello 23 c'ho già un sacco di equipaggiamento per la SAT la burocrazia beh 160 metri non è tantissimo non capisco perché si passeggia ok e qualsiasi ce la fa incollibile vai il massimo degli ASOT è 1000 che servono per pagare teletrasporti e quando arrivi al massimo li perde quelli in più per usarli e anche le missioni quelle dei progetti cittadini fanno aumentare un sacco di esperienza un sacco di fanno un sacco di bonus attenzione quelle in pvp perché sono di livello bassissimo qualsiasi persona al contro mi secca ok e niente da che ora mi posso teletrasportare guardo sempre a questo cascatole lì ok no come come viaggio veloce oggi uscito che stai a dio ho pagato ASOT boh era fallito il viaggio che qui la tescatina magari non li farebbe ehm che piacere rivelmente termine la missione vai hai visto il bastone potente contiene il potente ok ora c'è la missione che dovrei spingere vediamo nel prossimo video allora dunque a parte che ho delle spec da aggiungere che lancia un po' la forza e lancia un po' la forza poi va bene l'obiettivo non è lontano però io prima devo andare a casa e fare un po' di sblocrazia equipaggiarmi meglio eccetera va bene facciamo i pacchetti vai ok spada del barbaro 327 di danno eh sulle cose che metto in venta queste qui non mi serve mai che mi desse una cosa che mi serve cioè trova da matti questo è proprio forza di strezza però eh ma va solo con la spada a posto cioè la spada la potrà anche utilizzare eh al posto dell'arco o della lancia ora poi si vedrà bene arrivederci al prossimo video allora